Una vasta saccatura collegata ad un vortice di bassa pressione sulle isole britanniche è in transito sull'Italia centro-settentrionale, al suo seguito correnti occidentali prevalenti in quota cui si associeranno nuovi passaggi frontali. In Toscana, mercoledì 12 maggio, nuvolosità variabile a tratti consistenti nelle zone interne con possibilità di rovesci sparsi più probabili e frequenti sulle zone settentrionali appenniniche della regione. Venti moderati da ovest-sud-ovest con rinforzi sulla costa centro-settentrionale, mari molto mossi e localmente agitati a nord di Capraia. Temperature in ulteriore diminuzione. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con alternanza di piogge, localmente di forte intensità, a parziali schiarite. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 13, massima 17 gradi. In Valle del Serchio e zone montane, minima 12, massima 17. A Via Regge, sul litorale, minima 14, massima 16 gradi. Giovedì variabile, con possibilità di rovesci sparsi.